Buongiorno, desidera? Le manda a Puccio. In che cosa posso servirla? Sono l'esattore. Allora ha sbagliato il reparto, deve andare su all'ultimo piano, in ragioneria, quelli. Se siamo capiti, ce l'hai la roba. Tutto quello che avete qui esposto, signore, che desidera? Ci abbiamo mobiletti per il bagno, rubinetterie, lavandini, bidet matrimoniali, facciamo pure su misura, vasche per l'idromassaggio. È molto facile vedere una cosa io. Sì, basta che lei non mi chiede di fare i pacchi perché... Ah, le piace il bagno Palmo Rosso, devo dire che è un'ottima scelta, questo è il mio preferito. Di questo tipo di bagno ci abbiamo vari modelli, preferisce questo o una... Questo. Per dito? Sì. Ah, che favore! Ah, caglia, caglia! E questo è il primo avvertimento di Buccio. Ah, ma chi è sto Buccio? No. Chi è? Grazie. Grazie, grazie. Oddio! Buccio dice che non può più aspettare. Ma chi è sto Buccio? Paghi o no? A me mi hanno licenziato. Ma perché? Quanto sarebbe? So 30. Ma basta che la facciamo finita, guarda. Vediamo se ci arrivo. Mille, du mila, cinque su sette. Ma che vuoi scherzare? No, io lo so. E allora, ora salio il timo, eh? No! Che merco! No! Non mi baciano! Non baciano! Non baciano! Buccio, non sarà contento. Fa un culo di... Eh? Saludamelo. Ah, beh. Agliacchì!